. . . . . . . . . Ci sono tante cose da fare quando ci vediamo, ma soprattutto non ci sia noia mai. Mi dici tu sei diretti, ma come sei detto? Aprarà già dai, non ne verrà nessuno. Aprarà già dai, non ne verrà nessuno. Aprarà già dai, non ne verrà nessuno.